Piccola premessa. La mia telecamera, ovvero questa qui, che è quella che usavo per fare i video, si è suicidata a causa di un lagomorfo un po' zompettante che ha deciso di saltarci contro e farla suicidare giù dal tavolo. Quindi non funziona più. Cioè, si accende ma non parte. Quindi, eh. Per questo, le riprese di oggi, e probabilmente anche le future finché siamo comunque in quarantena, saranno tutte registrate attraverso il mio telefono o attraverso la webcam del computer. Sono entrambi sistemi 1080, però mi rendo conto che un po' la qualità ne risentirà. Vi chiedo scusa, ma al momento non posso fare in altro modo. Detto questo, via col video. Sei anche tu un videomaker al prime armi? Uno youtuber in poveranza? O semplicemente un soggettone amante della fotografia e del fai da te? Insomma, se sei tu in cerca di come si può costruire un softbox fatto in casa, spendendo veramente poco e avendo un'ottima qualità, sei nel video giusto. Ma prima, che cos'è un softbox? Il softbox è appunto una scatola con una specie di tenda bianca, che consente di inserire al suo interno una lampadina ad alta luminosità, permettendo così la luce, che colpisce il soggetto, di arrivare morbida e non diretta, evitando di accentuare tutte quelle ombre, ma anzi eliminandole, diffondendo così un'illuminazione più omogenea. Sì, ok, finito il momento Piero Angela delle spiegazioni. Iniziamo a faremo il tutorial. Ok, prima di tutto sono andato all'IKEA e ho preso questa lampada qua. La lampada, o meglio il portalampada, è della serie Tertial, penso si lega così. E oltre ad essa ho comprato anche una delle lampadine a LED, a luce bianca, quindi luce fredda, a più alta luminosità possibile. È veramente una cannonata senza softbox davanti, ti acceca e ti uccide gli occhi. Quindi non la guardate. Dopodiché mi sono spostato in cantina, ovvero nel laboratorio. In cantina costruiremo il softbox vero e proprio, perché io fare le cose un po' alla ciarlona, quindi mettendoci un foglio davanti e attaccarlo con lo scotch, no, se lo devo fare lo faccio bene, se no non lo faccio, chiaro? Ok, lista dei materiali, ovviamente la troverete qui. La lista dei materiali che ci serviranno sono un foglio di compensato da 21x21, quindi un quadratone da 21x21 e spesso 5 mm. Un sacchetto alternativo e un trapano. Potete farlo anche a mano, ma ci mettete i secoli, quindi se avete modo di usare un sacchetto alternativo sarebbe il caso. Carta vetrata per rifinire il lavoro, carta da forno e colla vinilica. Procedimento. Prima di tutto prendiamo il nostro paralume. Osserviamo quanto sia bello. Dopodiché appoggiamolo al centro del nostro quadrato. Mi raccomando, siate precisi e non burundi. Dovete prendere ovviamente il centro, non metterlo un po' a caso perché se sbagliate poi dopo viene segato tutto storto e fa schifo. Dopodiché, con l'ausilio della matita, avrete una matita in casa anche se non volete di prenderla tra gli strumenti, no? Ne disegnate la circonferenza. Con il trapano fate un foro vicino alla circonferenza, non sulla circonferenza perché sennò sbagliate a tagliare fuori, e col segreto alternativo ne disegnate, cioè, ci passate sopra il segno della matita. In questo modo avrete ritagliato un buco all'interno del quadrato. Mi raccomando, se non siete buoni, o siete troppo piccoli per farlo, e capitemi cosa intendo per troppo piccoli, fatevi aiutare o da un adulto o da un esperto. Non voglio avere sulla coscienza persone con le dita tagliate da un segreto alternativo per costruirsi un softbox, chiaro? A questo punto avete la base del vostro softbox, ovvero il quadrato di legno. In teoria, se siete stati sufficientemente precisi, il vostro paralume si dovrebbe incastrare perfettamente all'interno del cerchio. Dovrebbe entrare lievemente a fatica, così da stare fisso, senza l'ausilio di collo e robe varie, ma entrare. Se invece non entra, smussate le imperfezioni o allargate lievemente il cerchio, utilizzando la carta vetrata. State molto attenti perché se esagerate utilizzando la carta vetrata, allargate troppo il cerchio e dopo non sto più su, e quindi buttate via tutto. Una volta fatto ciò, prendete il vostro quadrato bucato, lo spennellate con abbondante colla vinilica, e ci appiccicate sopra la vostra carta da forno. Mi raccomando, siate precisi e cercate di togliere tutte le pieghe e le imperfezioni che si possono creare. Deve essere perfettamente steso. Se all'interno del cerchio ci saranno poi delle pieghe, potrebbero riflettere la luce in modo sbagliato e fare uno schifo. Quindi, mi raccomando, state attenti. Ok, una volta che poi dopo avete incollato il vostro foglio sulla parte di legno, bisogna lasciarlo asciugare per circa 12 ore. Io l'ho lasciato asciugare 12 ore esatte, mettendolo sotto a un peso molto importante, quali ad esempio due dizionari. Fatelo anche voi, così da schiacciare tutto e renderlo perfettamente spiaccicato. Fatto ciò, montate la lampada come da istruzioni. Quindi, paralume, lampadina, e poi dopo, a pressione, ci incastrate il nostro quadratone. A questo punto, il vostro softbox e il nostro softbox è pronto per essere utilizzato. Adesso vi mostro una piccola spiegazione pratica di cosa fa effettivamente softbox. Ok, per darvi un'idea di che cosa fa softbox, adesso il softbox è esattamente di fronte a me, ce l'ho qui. Praticamente, noi adesso, così, è spento, ok? se noi lo andiamo a accendere, ovviamente, ci mette un attimo a sincronizzare la telecamera, ma qui dopo, una volta che stiamo registrando, come potete vedere, il viso è completamente assente da ombre e questa cosa ci permette di avere un'ottima illuminazione. Fate conto, adesso è giorno, ovviamente, è mattina, è quasi mezzogiorno, quindi c'è il massimo illuminazione possibile. Se lo facciamo di notte, ovviamente, illumina a giorno la stanza, praticamente, sta luce, quindi ci permette di avere un'ottima illuminazione anche in orari o sceni per registrare, che senza luce avremo il totale buio e robe varie. Ehi!